Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. Luglio inizia con il solleone, di fatti continua il dominio di questo anticiclone ibrido e con maggior contributo caldo africano. Mercoledì 1, cielo generalmente sereno salvo locali foschie sui litorali tirrenici e temporanei annuvolamenti pomeridiani sulla Sila ma senza fenomeni degni di nota. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali sul Tirreno, da ovest moderati sul Catanzarese di Levante di direzione variabile sul resto del versante ionico. Marione o calmo poco mosso il Tirreno, temperature alte con picchi di calore fino a 38-39 gradi fra valle del Cratie e Sibaritide. Persistono caldo e bel tempo anche per giovedì 2 luglio, possibili punte di 40 gradi nelle pianure interne del Cosentino, mari calmi. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!